Ciao a tutti ragazzi, oggi vi porto l'unboxing di due nuovi pacchi che mi sono appena arrivati Mi aveva portati poco fa il Corriere GLS E che dire, non vedo l'ora di aprirli I pacchi vanno ad aperti subito, appena arrivano Anche perché si è sempre curiosi, no? Questi li ho presi su ebay Sono per la mia macchina Adesso li apro insieme a voi Taglierino E vi faccio vedere di che si tratta Se magari può tornare utile a qualcuno Benvengano Allora Andiamo a fare i macelli Oggi comunque fa caldissimo Io sono abruzzese Abruzzese Che va a San Salvo E fa veramente tanto caldo Infatti stanotte Mi sono svegliato alle 3 Convinto che fosse giorno Ero completamente il zuppo di sudore E sono stato un'ora in sala Con il condizionatore acceso Perché non riuscivo veramente a dormire Imbottitura Devo dire Imbottitura in polistirolo Devo dire che l'imbottitura c'è Momento eh Cerco di cacciarlo in qualche modo Da non Fare danni Un'ora in Wow, sono spettacolari, veramente, sono bellissimi, sono dei fari, fari per la mia macchina, fari lenticolari, li ho presi su ebay, sono due ovviamente, anteriori, e scusate mi sono emozionato, quindi dico cose ovvie. Il venditore mi aveva detto che erano in vetro, ma a me sembra proprio plastica. E vabbè, non fa niente, quando si ingialliranno, non ci vorrà tempo, li sbiancherò. Sono stupendi, non vedo l'ora di montarli. Quando li monterò farò un video, vi farò vedere, lo farò insieme a dei miei amici esperti, perché io non sono molto portato per queste cose. Ho il mio miglior amico che è molto bravo a fare questi lavori, infatti lo faremo insieme, insieme a lui e insieme al ragazzo di mia sorella, che anche lui è molto bravo a fare questi lavori sulle auto. Adesso, vabbè, non vi apro anche l'altro pacco, perché tanto è uguale. Ah, sono arrivate anche due lampadine per le frecce direzionali, nuove. Infatti, già avevo detto che le avrei dovute prendere, meno male che non l'ho fatto, perché sono arrivate insieme ai fari. Che dire, vi lascerò il link in descrizione per questi nuovi fari. Per questi fari. Gli ho pagati 74€, più 15 di spedizione, quindi 89€. Che dire, è un ottimo prezzo per dei fari lenticolari. Questi sono per Opel Corsa B del 2000. E niente. Adesso non ci rimane altro che montarli e goderseli, appunto. Vi lascio ad un prossimo video. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e... A presto con un prossimo video. Ciao!